Jack, vuoi essere un'incredibile aiutante e chiamare le scimmie pirata a tavola? Sembrano apprezzare! Dici sul serio? Ma certo! Chi è che non adora gli oggetti luccicanti? E impazziranno per questo... Banana Burger! Ehi! Scendete dal tavolo! Sedute! Ehi! Aspetto! Se vi sedete... Semmie! 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 Sedete per bene! Per favore! Aspetta! Ti faccio vedere il modo migliore per mangiare le banane! Ma sono scimmie! C'è un modo adatto per ogni cosa! Visto? Niente male! No! Non in questo modo! Non va bene! Mettetemi in salvo! Tenmi a picc'inica perfetta sulla nave pirata! Qua! Oh! Non! Non! Ah! Oh! 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 Ah! Tutto bene, Emma? In realtà volevo rendere il giorno dei pirati un giorno fantastico, meraviglioso e perfetto! Squisito! Sofì! Guarda! Le scimmie pirata stanno facendo tutto quello che sta facendo Jack! Troppo forte! Troppo strano! Non ci posso credere! Imitano Jack in tutto e per tutto! Le scimmie fanno così! Jack, è stupendo! Hai risolto la situazione perfettamente! Evviva! Grazie, Emma! Forse comportarsi in modo scimmiesco non è sempre una brutta cosa, Jack! A volte bisogna lasciare che le persone si mostrino per quello che sono e lasciare che le scimmie siano scimmie! e adesso è il momento del balletto della nostra tessa! Ok, ricordate quello che abbiamo fatto in prova! Attacca Ziggy! Balliamo! Uh-huh! Sì! Uh-huh! Uh-huh! Sì! Uh-huh! Oh sì! Oh sì! Balliamo! Uh-huh! Sì! E un salto! Uh-huh! Sì! Uh-huh! Oh sì! Ferma la musica! Mia! Mia! Oh sì! Mia! Uh-huh! Balliamo! Uh-huh! Mia! Non è il ballo che abbiamo provato! Noi stiamo facendo il balletto di tessa e tu devi ballare nello stile di tessa! Noi stiamo facendo il balletto di tessa